salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi faremo una codifica su una volkswagen antiroccan 2019 per fare questa codifica utilizzeremo lobby d11 questa codifica si tratta di cambiare le luci all'interno del nostro sistema sia del diciamo del sistema infotainment e sia all'interno del nostro virtual cockpit si tratta sia di questi colori qua vedete adesso sono blu e sia di questi qua che adesso sono all'interno del sistema e sono blu che dopo li potremo cambiare in qualsiasi colore vogliamo bianco grigio arancione rosso rosa viola in qualsiasi colore andiamo a decidere stesso all'interno del menu ci comparirà una voce il quale all'interno di questa voce ci comparirà i vari colori e andiamo a selezionare questi colori le tonalità di colori che andiamo che vogliamo modificare come dicevo per tale codifica utilizzeremo lobby d11 ok allora io adesso metterò nel menu normale così dopo vi farò vedere anche come si attiva andiamo ad attivare lobby d11 perfetto andiamo nelle centraline della macchina in questo caso andiamo nel modulo 9 e andiamo come prima cosa a mettere l'accesso di sicurezza andiamo qua accesso di sicurezza il codice 3 1 3 4 7 ok codice di accesso accettato adesso questa procedura qua è un poco lunga quindi mi raccomando seguite bene i passaggi e state attenti a quello che andiamo a fare quindi con molta attenzione seguite il video come prima cosa ci dice di andare in adattamento lo troviamo eccolo qua poi andiamo io adesso mi aiuterò con il tasto circa e inizierò a scrivere i vari canali dove dobbiamo andare a modificare in questo caso dobbiamo andare a modificare andiamo in luce questa qua luce interna e seconda generazione poi una volta dentro qua andiamo in strument che sarebbe questo qua strument e fabel scusate il testo scusate il testo ma la scritta è un po' con il troppo lunga comunque è questo qua vedete perfetto sarebbe uno due tre il quarto da sopra che adesso è inattivo andiamo qui andiamo ad attivare questa funzione qua questo qua sarebbe andiamo ad abilitare sul display il multicolore ok una volta fatto ciò andiamo a confermare l'adattamento perfetto vedete adattamento accettato uno due tre e quattro la quarta stringa qua l'adattamento accettato dopo di che usciamo nuovamente fuori e sempre in questo adattamento andiamo a trovare un altro canale in questo caso l'altro canale è la luce interna configurazione della luce interna vediamo un attimo allora andiamo a scrivere luce vediamo se ci esce ecco luce interna configurazione delle luci perfetto poi all'interno di questo menu quindi troviamo degli altri sottomenu andiamo ad attivare altre altre diciamo altre funzioni la prima cosa che dobbiamo andare ad attivare è trovare andiamo in ambiente menu meet global emma house allora allora eccolo qua ambiente menu meet global emma house che adesso lo direi in attivo andiamo qui e andiamo ad attivarlo anche questo qua perfetto poi senza uscire in questo menu qua abbiamo ad attivare anche altre funzioni questa funzione che adesso abbiamo attivato sarebbe quella di aggiungere il pulsante on off per spegnere i luci dei piedi e le altre luci delle porte e quant'altro che se non ci serve ci permette anche di fare questa funzione qua e di selezionare ciò che possiamo rimanere acceso poi una volta attivato questo dobbiamo andare ad attivare ambient menu meet alle zone cioè sarebbe questo qua quello di sotto andiamo qua attiviamo anche quest'altra sottomenu dopo di questo qua dobbiamo andare ad attivare anche ecco qua ambient farblister hmi andiamo qua e andiamo ad attivare anche questa funzione qua questa funzione qua ci consente al sottomenu di impostare i vari colori cioè nel momento in cui adesso andiamo ad impostare i colori questa qua ci dà il consenso di attivare queste funzioni qua una volta una volta fatto ciò confermiamo adattamento accettato e usciamo da qua questa selezione qua abbiamo fatto dobbiamo andare adesso non usciamo definitivamente dobbiamo andare in un altro sottomenu e dobbiamo attivare adesso i colori ok ragazzi allora adesso dobbiamo andare a mettere i vari numeri i vari numeri di colore all'interno di un altro sottomenu in questo cosa dobbiamo andare allora adesso vi faccio vedere ecco qua ambiente light farblist che sarebbe le luci dell'ambiente le varie luci i vari colori diciamo di tonalità di luce allora adesso è un po' più ci vuole un po' più di tempo dobbiamo andare a mettere tutti questi 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 codici che stanno qua adesso ve lo tiro una alla volta così vi farò vedere tutti tutti i vari colori allora dobbiamo andare a mettere seguiti passo passo come sempre tutta la mia procedura dobbiamo andare a mettere vedete qua il primo 217 sempre del numero 1 221 sempre numero 1 235 e così per tutta tutta l'altra serie di colori allora il numero 1 equivale al bianco il numero 2 al grigio numero 3 all'arancio il numero 4 al rosso il numero 5 al rosa il numero 6 al viola il numero 7 al blu il numero 8 azzurro il numero 9 al verde scuro il 10 verde chiaro adesso vi farò vedere tutti questi questi numeri che stanno qui in progressione una pezza all'altra allora numero 1 217 221 e 135 che equivale al bianco poi andiamo sul secondo 169 169 e un'altra volta 169 che equivale al grigio poi andiamo al numero 3 che serve l'arancio 253 108 55 poi andiamo al 4 242 242 0 e 40 che equivale al russo poi andiamo al quinto 254 88 240 che equivale al rosa poi andiamo al sesto 124 63 e 190 che equivale al viola poi andiamo al settimo 0 102 102 255 che equivale al viola poi andiamo all'ottavo 0 204 255 qui equivale all'azzurro andiamo al 9 0 204 0 che equivale al verde scuro e poi come ultimo andiamo al 10 136 255 e 57 che equivale al verde chiaro una volta fatta tutta questa codifica tutta questa procedura di adattamento andiamo come sempre ad attivare in questo modo già l'ho attivato vedete adattamento accettato che dobbiamo fare non andiamo direttamente nel menu perché non ci esce ancora ma dobbiamo premere e tenere premuto il tasto di accensione del sistema per riavviarlo come si riavvia il sistema premere questo tasto qua e tenerlo premuto per 10 secondi così 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 il sistema automaticamente si riavviverà quando uscirà togliamo uscirà il sistema così si è riavviato aspettiamo un poco ecco non so se l'avete fatto già a casa già da prima che erano blu si è cambiato perché giustamente impostando adesso le nostre le nostre luci ci da già data di base il bianco poi andiamo in menu veicolo setup luce soffusa e come vedete ci da la tabella dei colori vedete dicevo bianco grigio rosa e così cambiano i colori sia all'interno della che all'interno del sistema vedete verde azzurro verde scuro celeste rosa e quant'altro adesso andiamo a mettere un bel blu bell'effetto celeste verde che anche guardate perfetto quindi ragazzi vi è piaciuto? ok vi faccio vedere nuovamente come si entra allora menu veicolo setup andiamo sopra luci soffuse e andiamo qua a modificare i nostri colori bianco grigio rosa verde viola ragazzi mi raccomando seguite la procedura passo passo di tutta la procedura perché se qualcosa non viene fatta in progressione non si attiva tutta la funzione mettete tutta la tabella di tutti i numeri e niente che dirvi fate molta attenzione quando fate queste codifiche e come sempre vi invito a iscrivervi al canale ad attivare la campanella e mettete un bel mi piace su questo video spero che questo video vi sia stato utile e vi sia vi sia piaciuto dato che comunque vi da molte più funzioni dalla vostra macchina ok commentate qualcosa così da se vi fa piacere ringraziarmi e per il resto tutto qui ciao ragazzi al prossimo video